Musica Benvenuti al Vinitali 2019, a Ispuglia vi accoglie con una serie di seminari formativi e soprattutto accendendo i riflettori su tipologie magari nascoste dalla nostra regione non solo su quelle nascoste ma confermando anche una produzione che continua a migliorare anno per anno e quest'anno in questa edizione Ispuglia ha l'onore di ricevere il premio attraverso la persona del Dottor Baldassarre il premio Can Grande, un premio ambito che viene dato uno per regione Un caro saluto e cin cin Un caro saluto e cin